ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono desimo alessandra e volevo salutarvi questa mattina augurandovi una buonissima giornata io sono proprio qui ecco fuori casa mia con i miei due cagnolini con le mie pantofoline pigiamino e sto camminando fuori casa mia rispettando tutte le regole perché è fondamentale che noi rispettiamo le regole affinché tutti possiamo tornare alla nostra vita normale dai stella dai la mia cagnolina è rimasta un pochino indietro e possiamo fare in questi giorni tantissime cose per esempio un sacco di albergatori stanno cercando di pulire ecco a fondo gli alberghi ripittare le stanze e cambiare le lampadine insomma aggiustando tutto quello che prima diciamo tra virgolette era rotto e adesso con tanta 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 buona volontà stanno cercando di di rimettere tutto a posto teddy di rimettere tutto a posto così sono pronti per quando finirà tutto per iniziare a lavorare fate così anche voi perché sicuramente sia dentro che fuori le vostre case avete tanti lavoretti da fare no tante cose arretrate e comunque anche avere degli animali domestici a casa ci aiuta tantissimo perché ci teniamo occupati ci teniamo impegnati perché a loro comunque va dedicata anche molta attenzione voi come state come state passando il vostro tempo scrivetemi qui sotto al descrizione fatemi sapere cosa voi state facendo un bacio a tutti mi raccomando tenete duro